Si comincia a partiti, rimessa da 3 per rosso, sui piedi di Solinas, la palla che resta lì. Amodeo, si trova sull'angolino. Bellissimo! Inizia a reato da 2 punti, apre le danze per questa nuova stagione dei Guardians. Reato nuovo innesto di quest'anno. Sbracciatone! Miracolo! Miracolo di rosso! A una mano. Cerca l'angolino. Bello in mezzo ai due. Difficile. Bravo lui! Bella bene. Reato da 3. Cerca la sfonda.